La presenza di Dio nella storia è un oceano di misericordia che inunda il mondo, nonostante il fiume in piena del peccato, nonostante le molteplici forme di ingiustizia e di violenza che feriscono quotidianamente l'umanità. Con questa certezza Papa Francesco ha inaugurato il nuovo anno, celebrando nella Basilica Vaticana la messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, 49esima giornata mondiale della pace. Alla presenza tra gli altri dei pueri cantores, il Pontefice ha rimarcato che l'amore del Padre Celeste ci accompagna anche quando sembra che perduri la sopraffazione dell'uomo sull'uomo, anche dinanzi alla moltitudine di uomini, donne e bambini che fuggono dalla guerra, dalla fame e dalla persecuzione, disposti a rischiare la vita pur di vedere rispettati i loro diritti fondamentali. Siamo chiamati tutti ad immergerci in questo oceano, a lasciarci rigenerare per vincere l'indifferenza che impedisce la solidarietà e uscire dalla falsa neutralità che ostacola la condivisione. La grazia di Cristo che porta a compimento la testa di salvezza ci spinge a diventare suoi cooperatori nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno, dove ogni persona e ogni creatura possa vivere in pace nell'armonia della creazione originaria di Dio. Davanti agli orrori del nostro tempo, segni negativi evidenti anche agli occhi dei bambini, è importante non scoraggiarsi ma cogliere la portata dell'amore del Signore, abbandonarsi con fiducia, come fece Maria. Dove non può arrivare la ragione dei filosofi nella trattativa della politica, là può giungere la forza della fede che porta la grazia del Vangelo di Cristo e che può aprire sempre nuove vie alla ragione e alle trattative. Il tema della pace è tornato anche prima della recita dell'Angelus. A tutti il Pontefice ha ricordato che il Signore è un padre innamorato dell'uomo e che scoprire il suo volto luminoso rende nuova la vita. Il Signore ha una pazienza con noi, non si stanca di ricominciare da capo ogni volta che noi cadiamo. Però il Signore non promette cambiamenti magici, lui non usa la bacchetta magica, ama cambiare la realtà dal di dentro. Con pazienza e amore chiede di entrare nella nostra vita con delicatezza, come la pioggia nella terra, per poi portare frutto. Ringraziando vivamente le tante iniziative per la pace che hanno scandito all'inizio del 2016, Papa Bergoglio ha auspicato un nuovo anno fatto di misericordia. La pace che Dio Padre desidera seminare nel mondo deve essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche conquistata. Ciò comporta una vera e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel nostro cuore. Perché nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l'indifferenza che fa pensare solo a se stessi e crea barrieri, sospetti, paure e chiusure.